Una vera e propria tragedia, quella che si è verificata nel primo pomeriggio di ieri a Barrea. Una giovane coppia di fidanzati ha perso la vita nel corso di un grave incidente stradale in moto. Le vittime sono Maurizio Tortola, di 32 anni, e Rossana Di Noia, di 30 anni, di Sernia. Da quanto si è appreso i due motociclisti, mentre percorrevano la strada statale 83 Marsicana, a bordo della loro moto Ducati, avrebbero impattato violentemente contro un Audi A4 proveniente in senso opposto. A causa delle ferite riportate, entrambi sono deceduti sul colpo. Nulla hanno potuto fare i soccorritori. Gli occupanti dell'auto sono invece rivasti illesi. Il magistrato di turno presso il Tribunale di Sulmona ha disposto l'esame autoptico sui corpi dei due giovani, mentre per i rilevi di rito e per ricostruire la dinamica del grave incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villetta Barrea. Le salme sono state trasferite presso l'obitorio dell'ospedale di Sulmona. Si sono svolti i controlli del caso sul conducente dell'auto, ma tutti gli esami hanno dato esito negativo. Due giovani vite spezzate, che hanno lasciato sgomento nella comunità, ancora sangue sulle strade.